ciao a tutti buongiorno dreamlikemoon vi dà il benvenuto a un nuovo episodio della nozzo barri challenge siamo ancora in vacanza sulani con i ragazzi dove stai andando prune mamma mia cioè devi chiacchierare con lei al di là dell'aiuola benissimo si sono svegliati tutti con una fama e che se li sta portando via tranne viola e raffaele che stanno ancora dormendo dopo la scapotella alla cascata della puntata precedente però lilia la nostra carissima lilia vabbè adesso sta andando a prendersi da mangiare però in realtà ha messo su un banchetto però si hanno tutti troppa fame ecco esatto va di non bruciare niente perché mi arrappio si vogliono mangiare anche il giorno della parlata da pirata per cui è perfetto per sulani però complimentati per l'atteggiamento quanto sei affascinante mentre prepari del frutto grigliato si tu devi andare in bagno vabbè vacci non partecipare vai in bagno per favore ti prego getta ancora tu che stai facendo a niente vi state già prendendo cura di voi bene ne sono felice perché devi andare a rompere le scatole a tuo cugino beh perché in effetti sentite dato che ci siete prendete una porzione per favore che se no mi viene l'ansia ho saputo della tua amicizia con rain miller sì grazie adesso l'hai saputo sono amici da anni prendi una porzione anche tu raffael direi che puoi svegliarti raffael è triste perché pensa vi ricordo che viola abbia flirtato con qualcun altro cosa che non è assolutamente vera però vabbè svegliati anche tu tesoro prendi una porzione tutti gli affamati si avvicinino per prendere una porzione grazie anche tu smettila di chiacchierare con rain con tuo fratello a stavi già mangiando l'hamburger va bene va benissimo non so ignoro proprio dove tu l'abbia preso ma vabbè fa nulla allora è passata bene la buonanotte sorella ah sì perfetta sai è stata un po' una guerra dormire fianco a fianco con adam parlate di me e beh ovvio che stiano parlando di te adam va bene oggi i programmi erano quelli di farli andare un po' in giro cioè non di tenerli proprio qua ma di andare in giro per per sulani ripulisci questo no 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 non questo non quello vabbè fa niente fa niente abbiamo un'altra cosa qua in preparazione tesoro tutti sei svegliata puzzi un po' eh come andata la notte cugina molto bene andata a dire il vero poteva andare un po' meglio perché ho un fidanzato stupido però vabbè sì hai ragione anche tu siete tutti a posto io controllo che siano effettivamente tutti a posto e poi direi che ci vediamo in giro per sulani ed eccoci al bar della spiaggia siamo tutti ancora in costume ma un filo più abbigliati perché non ho mai la possibilità di utilizzare i costumi diciamo non per andare in acqua ma quelli che si tengono fuori e questa mi è sembrata una buona idea a parte tu che sei proprio desnudo del tutto ma vabbè fa nulla rain è andato a prendersi da mangiare mentre loro due sono qua che si danno da fare con una scultura di sabbia perché giselle la nostra dolce giselle ha avuto chiaramente l'idea di mettersi a costruire un castello di sabbia scusi signora cosa ci fa nella nostra conversazione vabbè fa niente dobbiamo fare un po' di interazioni da pirata per cui tenta di sedurre ammira il bottino del pirata complimentati per la tenuta pruna tu con sunshine però hai già fatto un po' di un po' di interazioni tu anche vabbè fanno un altro un altro po' complimentati per la tenuta magari potresti provare con un bel romantico flirt spiega le vele non so cosa significhi ma fa nulla dove stai andando tesoro no 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 non chiacchierare con quelli che ci sono qua non ci interessano mentre il nostro rain potrebbe con Lilia scambia storie piratesche ma soprattutto flirtare un po' complimentati per la tenuta insomma niente formaggio grigliato qui a sulani e no avete dei cibi un po' diversi un po' più buoni se posso permettermi un po' più particolari di un semplice tramezzino al formaggio e lei tenta di fare la scema con con rafael giustamente allora tesoro ti è piaciuto ieri sera sì gli è piaciuto tranne un filo di di scazzo permettetemi di dirlo vabbè lei perdonata ma sì che lei perdonata dai ammira il bottino no avevo visto un'altra cosa racconta una storia di mare complimentati per l'atteggiamento cerchiamo di fare andare un po' avanti queste coppie soprattutto Lilia e rain che non avremo più modo di gestire di vedere da vicino senti che bella canzone se vuoi te la canto dietro un cespuglio perché no perché no andate qua proprio vai qui e rain vai qui ci sono anche i gabbiani ma non ci interessa spaventarli perché al momento abbiamo cose più importanti da fare come per esempio potete anche fermarvi fermarvi qui è che siete abbastanza imboscati rispetto agli altri dai rain approfittane di Lilia complimentati per l'atteggiamento e sì oggi saranno flirt pirateschi battute di bordaggio audace ma sì le mie giornate sono molto più belle con te grazie di farmi sorridere oh che carini apri gli occhi grazie abbraccia proviamoci devo immortalare questo momento su instagram perché tutti i miei amici ancora non sanno che sono a sulani allora devo farglielo sapere ma si lascia che parlino io ho cose più importanti di cui parlarti tesoro manda un bacio smettila di parlare vai al sodo vai al sodo dove state andando scusate dovevate proprio andare a bordo strada ok manda un bacio manda un bacio manda un bacio acquisite l'abilità di comicità per adam non avevo dubbi smacchete smacchete vuoi fare i fichi fichi su un rezzo spaziale e qua non ci sono razzi spaziali certo che potevate mettervi in una posa un filo più decente ragazzi non per lamentarmi ma primo bacio non ti pare che questo posto sia perfetto per le fusioni e poi andiamo a mangiare un formaggio no tesoro c'è qualcuno di completamente desnudo qui a poverina non è sopravvissuta all'ultimo cambio cc che ho fatto vabbè lasciamo stare sono ancora in cavolata nera non ordinare del cibo mamma mia lilia vieni qua sii tu a baciarlo flirt puoi tenta di sedurre e che cavolo lilia dai sei molto flirtante approfittane flirt ma davvero non c'è più il primo bacio forse lui proviamo ah no intimità fisica primo bacio oh mi confondo con questo nuovo menù ancora sì dai 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 oh benissimo oh perfetto ci fosse anche un cespuglio per fichi ficheggiare in santa pace io sarei anche contenta ma forse sarebbe correre un po troppo chi lo sa bene e ora potete andare a costruire una scultura di sabbia come hanno fatto gli altri costruisci una scultura di sabbia con lilia molto bene occupiamoci dell'altra coppia e sono tutti scappati se a volte mi sembra di essere un mostro con giselle lei è così carina e dolce e ma no è una cui piace se i mostri muscoli di che state parlando è lasciare giusto hai ragione sta chiamando per chiacchierare vogliamo rispondere sì dai mamma che è preoccupata per il viaggio allora non vi siete più fatti sentire come sta andando lì dai ma dice dice lui ci stiamo divertendo dove è giselle giselle cara chiama da te cerchiamo di imboscarci un filino anche noi magari andiamo qua vai qui e anche giselle no dove è giselle qua con tutti questi capelli non capisco più niente vai qui non chiacchierare con alia non ci interessa vai qui è iniziato il festival della neve beh noi siamo in mezzo alla sabbia e siamo al mare per cui no non mi pare il caso non ci interessa sostiene che giselle è un'aliena no complimentati per la tenu... giselle mamma mia che stress dai che già... adam dai già è timida lei se poi ti ci metti anche tu ma sai che questi vestiti ti stanno proprio davvero bene sì perché è mezza nuda per cui ci credo magari però potrebbe essere lei a... altre sce... sì certo devo cliccare su di lei potrebbe essere lei... giselle oh finalmente dicevo potrebbe essere lei a fare qualcosa affetto no rivela la cotta no scambia i numeri di telefono vedete che non sono andati avanti moltissimo eh probabilmente ha fatto qualcosa che non doveva a parte che deve andare in bagno ma no in teoria non ha fatto nulla che non doveva a fare allora ci teniamo in contatto bambine romantico dai che è molto fiduciosa flirt racconta una barzelletta per flirtare però ti darà uno scapaccione eh... battute di abbordaggio dai possiamo farcela battute di abbordaggio vediamo flirt fiera il finchwick non ci interessa uh appena ho mandato un bacio racconta una barzelletta per flirtare lascia stare no devo assolutamente parlarne su simstagram che ho un dolcetto tra le mie mani e non intendo farmelo scappare va bene uh fai il bacio a mano dai 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 sei la ragazza più bella su cui abbia mai posato gli occhi giselle oh che corini proviamo posa sexy vai non la vedo come una sex bomb ma secondo me è il sole che le dà la testa e ci prova ci prova la ragazza e anche lui potrebbe fare uh l'avevo visto l'avevo visto no romantico anche tu una bella posa sexy dov'è affetto no si cosa c'entra la posa sexy vabbè no 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 non ti infuriare non è cosa questo mattacchione va bene per la dinamica familiare si guarda che muscoli anch'io che ho giselle per cui adesso ti dimostrerò che sei bella come questa rosa anzi molto più bella ma soprattutto vorrei dimostrarti che le tue labbra sono ancora più dolci di questa rosa ai come intendi dimostrarmelo beh l'unica cosa che posso fare è dimostrartelo col sapore delle nostre labbra le une sulle altre e il primo bacio ah sì davvero no bello non ci provo ups no 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 oddio eh non è andata come speravamo no 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 tesoro no no lascia stare eh già sensazione di furia che fastidio per la socializzazione eh tesoro vai in bagno datti una calmata ecco fai la cacca furente e qua non puoi non c'è neanche uno specchio per darti una calmata possiamo inserirlo no perché c'è questa non c'è problema la spostiamo quindi no con Giselle non è proprio andata come speravamo ma tenteremo di recuperare ai 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 uh qua c'è qualcuno che sta ballando ottima idea davvero ottima idea eh anche perché tu tu dovresti davvero impegnarti a ballare eh sinceramente per cui balla e vediamo se hanno bisogno di qualcosa eh magari potremmo fare una scappata alla spiaggia perché no mangia per il livello basso dei bisogni non hai un livello basso dei bisogni tesoro ma secondo te Rain io sto facendo colpo su su prune scusa Alison non abbiamo chiesto la tua il tuo aiuto ma secondo te riuscirà a fare colpo su prune perché a volte mi sembra di riempire di colore la sua vita ma non mi sta filando più di tanto no prune è un po' è un po' distratto ma tranquilla che ci riuscirai ci riuscirai cos'è quel sorrisone che è sulle labbra un tramezzino grigliato no molto meglio di un tramezzino grigliato a proposito prune noi l'abbiamo già baciata non mi ricordo un tubo l'abbiamo già dato sì cioè ah beh sì ha fatto anche fichi fichi con lei quindi siamo già avanti sì però le abbiamo chiesto di essere di mettersi insieme sì stanno insieme va bene e quindi a questo punto io direi che potrebbe essere Lilia a prendere da parte Rain e chiedergli se si possono mettere insieme dai sta sta arrivando Lilia vai vai e parlaci perché sei a disagio tesoro cosa c'è da essere a disagio oh ma perché è ammalata ma no cosa sono tutti questi meno allora dai vieni qua romantico affetto chiedi di far ondeggiare la nave scusa Rain dove stai andando vi prego non complicatemi le cose perché tanto per cambiare le stanno complicando ovviamente no tesoro tu tu puoi a parte che hai fame puoi ordinare del ci una bevanda per te no però qua non c'è il succo puoi ordinarti la medicina al telefono ovviamente sì mi dimentico sempre che è tra i regali dai beviti la tua medicina siamo in vacanza non ha senso essere malati questo ha variato lo buttiamo via oh e qui che sta succedendo qualcosa di interessante sì 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 ehm bacia sul collo e poi io direi che potrebbe appunto chiederle eh con la sorella che è qua che guarda no tesoro non guardare vai da fai qualcos'altro vai qui vedi tu cosa fare e noi ci concentriamo su Rain che chiede a Lilia ma senti allora ci mettiamo insieme chiedi di diventare la fidanzata allora ci stai ma certo ma certo eravamo già una cappia prima ma uh sei molto acquisita l'abilità di forma fisica va bene e vai sono felicissima sì anch'io dobbiamo dirlo a tutti ma no aspettiamo un attimo va bene ma sono già le 18 cavolo vabbè allora io direi che possiamo tornare a casa andremo domani in spiaggia a far una bella giornata in spiaggia domani cerchiamo di far recuperare un po' di terreno alla relazione Adam Giselle che qua mi sembra che stiano un po' andando a fondo uh però che carini fatemi fare una foto via questo coso oh dai non si può non fare una foto a questa comitiva però tesori io direi che andiamo torniamo al campeggio torniamo alla base tu hai appena preso le patatine vabbè puoi mettertele nell'inventario grazie anzi mangiane vabbè io direi che possiamo trascorrere appunto una serata a nuotare al campeggio deve essere un bug però perché amore traballante ce l'hanno praticamente tutti come stato morale a parte a parte gli altri dov'è sunshine dubito che lei abbia flirtato con qualcun altro no 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 non ti metti a fare i compiti qua torniamo davvero al campeggio metti nell'inventario e trascorriamo questa serata a nuotare alla luce del tramonto che vabbè c'è già stato ma vabbè sarà comunque una serata memorabile e io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio noi ci vediamo nel prossimo per l'ultimo giorno di vacanza a Sulani insieme ai nostri mi scuso se ogni tanto sparisco periodo molto molto pieno soprattutto dopo la pubblicazione del nuovo romanzo e un'estate in previsione di un'altra pubblicazione mi sto occupando inoltre di altri quattro romanzi per cui davvero molto molto pieno come periodo per cui me ne scuso ma non temete perché c'è anche una sorpresa una novità che sta arrivando per cui magari in questo periodo un po' più lentamente mi arriva tutto ciò che vi avevo già promesso per cui detto questo io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me in questo episodio speriamo che nel prossimo la coppia Adam e Giselle si ripigli un attimo stanno tutti migliorando la forma fisica va bene mi fa piacere quindi sì nel prossimo episodio ci concentreremo su di loro intanto se questo vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi se siete nuovi mi raccomando attivate la campanella andate in descrizione dove trovate i link a tutte le serie ai social ai canali dei miei amici youtuber che vi invito a seguire attivate le campanelle a tutti quanti noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.